Mi sono molto soddisfatti innanzitutto della serietà e del lavoro che abbiamo messo in campo, gli avvocati erano molto contenti ieri della discussione, io sono molto soddisfatto della discussione della Procura Generale della Corte dei Conti, anche le conclusioni, l'accoglimento del ricorso, l'ordinanza va nella giusta direzione perché è giusto che si chiedano approfondimenti, chiarimenti, è una vicenda così complessa, Napoli è la città più importante e deve essere esaminata, si fa giurisprudenza e noi siamo sereni nella certezza di dare le informazioni che la Corte ci ha richiesto, quindi noi siamo molto motivati e determinati, fiduciosi e sereni.